Per noi, se riusciamo a fare la stessa estate dell'anno scorso, siamo già contenti. Il sole e il clima mite del sud hanno reso le spiagge del territorio un luogo piacevole da frequentare nel corso di tutto l'anno. La pandemia però ha ridisegnato le abitudini e modificato la stagionalità delle strutture. È sempre bastata una bella giornata invernale per una passeggiata o un pranzo in riva al mare. La zona rossa ormai terminata, quanto è inficiato sulla balneazione? Se facciamo questa domanda a livello nazionale, poco. Se la facciamo a livello locale è interessante specificarlo tanto perché la fascia costiera napoletana, in particolare quella fra Lecrea Domizia, ha la caratteristica di avere strutture aperte tutto l'anno. Quindi è inciso. Se è servito a fare un'estate regolare come è stata quella dell'anno scorso, con tutte le prescrizioni del caso, siamo contenti, non vediamo l'ora che inizi la zona arancione. Zona arancione quindi, ma come sarà possibile usufruire della spiaggia? Nella zona arancione le persone possono venire in spiaggia, passeggiare e usufruire del bar e ristorante, del servizio a sporto del bar e ristorante. Quando sarà zona gialla potranno usufruire di tutto. Si guarda in prospettiva sia per gli imprenditori del settore che per la popolazione, che estate sarà quella ormai alle porte. Rispetto all'anno scorso abbiamo la consapevolezza, l'anno scorso è stato un po' un salto nel buio per tutti. Per noi se riusciamo a fare la stessa estate dell'anno scorso siamo già contenti.